Sono stati 254 gli interventi effettuati lo scorso anno dai vigili del fuoco volontari di Gazzaniga, un numero inferiore rispetto al 2008, quando gli interventi erano stati bene 337. Questo distaccamento ha competenza sul territorio della media valle seriana, ma in più occasioni i volontari sono intervenuti nelle zone limitrofe a supporto dei colleghi. Il maggior numero di interventi, 91, è stato effettuato per incendi, 31 per danni provocati dall'acqua e 21 per incidenti stradali, con 2 morti e 18 feriti. Il comune dove i volontari di Gazzaniga sono intervenuti più frequentemente è stato Albino, con 37 interventi, seguito da Gazzaniga con 33, Fiorano 20, Leff 19, Cene 18, Vertova 15, Casnigo e Gandino 14, Nembro 10. Ci sono poi stati con numeri inferiori interventi in altri 35 comuni. I pompieri di Gazzaniga hanno anche svolto attività di carattere didattico e dimostrativo, a Comenduno presso la scuola materna e all'ITIS di Gazzaniga per la simulazione di un'evacuazione.